Siamo con Antonio De Bellis di ABB e vorremmo parlare un po' del problema delle patch e degli aggiornamenti. Cosa può fare un'azienda per ridurre il problema? Come ABB abbiamo stretto una forte partnership e alleanza con Microsoft e questo ci garantisce di ricevere in anticipo le nuove release e le patch. In questo modo presso i nostri laboratori possiamo testarne prima l'applicabilità e l'utilità presso le nostre soluzioni e le nostre tecnologie. Questo per garantire ai clienti che l'applicabilità e l'installazione in campo non crea problemi. C'è un annoso problema in politica che è chi controlla i controllori. Nella parte cyber security forse voi avete una soluzione, avete un centro a Genova. Abbiamo creato il concetto del Collaborate Operation Center, sostanzialmente un centro di controllo specializzato per varie tipologie di industria. A Genova in questo momento abbiamo operativo quello Marine & Ports, stiamo aprendo quello della Power Generation & Water e stiamo sviluppando qualcosa legato ai concetti di Smart Cities. L'idea è andare oltre la tecnologia, mettere a disposizione degli esperti, compresi quelli della cyber security e in questo contesto fornire servizi avanzati ma soprattutto consulenza e supporto ai nostri clienti, a chi ha dei centri di controllo di infrastrutture critiche o impianti. In questo modo riusciamo a dare sicurezza, affidabilità in quello che viene svolto e sicuramente poi una continuità di servizio che è un fattore fondamentale che sia una fabbrica o che sia un'infrastruttura come trasporti o una pipeline o rete di trasmissione. Grazie